La manutenzione una volta avveniva attraverso gli agricoltori e i contadini che nel periodo invernale facevano tutta la potatura delle piante. Oggi le piante secche cadono, chiudono le strade, ostruiscono i fossi e producono esondazioni. Quindi noi abbiamo fatto delle dieci regole stampate in un manifesto in cui diciamo tutto quello che bisognerebbe fare per evitare dei disastri. Per dire in via dei gatti l'esondazione di un fosso non pulito, non sistemato dai proprietari delle aree, dal Consorzio di Bonifera, da chi ha le competenze, ha creato non poche difficoltà. Abbiamo dovuto intervenire con dei mezzi pagati dal Comune per evitare che entrasse l'acqua nelle case, che facesse dei danni. E quindi diciamo che una buona manutenzione idraulica del territorio, fatta dagli agricoltori, fatta da tutti quelli che hanno competenza, dalla regione, per esempio sui fiumi, il fiume Apsa e il fiume Foglia, la competenza oggi è della regione. Dal Consorzio di Bonifera, il Consorzio degli agricoltori, per la pulizia, la manutenzione idraulica dei fossi, delle strutture e così via. Quindi è anche un appello che faccio a fare ognuno il mestiere nostro, perché se ognuno fa il nostro mestiere, io sogno un mondo perfetto, potrebbe quando piove, quando fa la neve, non succedere nulla. Anche perché costa. Se noi spendiamo 500 mila euro, lo pagano i cittadini. Se tutti quelli che devono fare la manutenzione del territorio lo fanno, come succedeva una volta. Oggi tutto questo è più complicato e ci troviamo che quattro gocce d'acqua, più del normale, producono frane, producono esondazione dei fiumi, e producono esondazione dei fossi e costano poi alla gente, perché chi interviene alla fine, al di là delle competenze, è il comune, perché la gente va a brontolare giustamente in comune, perché la provincia, la regione e lo Stato sono più lontani.